C'è una grande C che vive nella nostra tessera, quella di comunità. Comunità che fonda sui valori unici dell'essere volontario, grazie a una scelta che puoi fare anche tu. Diventa socio di una delle 6.000 meravigliose proloco italiane. Riceverai anche tu una tessera speciale, dedicata quest'anno alla socialità e alla bellezza del sito UNESCO. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità. Cogli tutte le opportunità della tua tessera socio. Vivi la nostra unione che ogni giorno fa comunità.